Gli animali, la respirazione. Respirare significa far entrare ossigeno nel nostro corpo. Gli animali che vivono sulla terra lo assorbono dall'aria. Se vivono in acqua, assorbono l'ossigeno contenuto nell'acqua stessa. Per respirare le diverse specie usano organi diversi. I berni ed alcuni anfibi respirano attraverso la pelle. Gli insetti respirano tramite le trachele. Piccoli tubi che comunicano con l'esterno attraverso piccoli forellini, gli stigli. Curiosità, sapevi che circa l'80% degli animali sulla terra sono insetti? Il numero di insetti supera tutte le altre specie di animali e vegetali messe insieme. I pesci utilizzano le branchie, sottili lamelle in cui passa l'acqua. Curiosità, sai che i pesci non hanno le palpedre? Ma dormono comunque, anzi riescono a dormire anche mentre nuotano. Molti animali terrestri e i mammiferi acquatici usano i polmoni. L'aria entra dalla bocca ed arriva ai polmoni. Curiosità, sai che le balene risalgono in superficie ogni 5 a 10 minuti per respirare? Riassumendo, pelle, trachee, branchie e polmoni sono gli organi della respirazione. Imparare con le curiosità. Ric,, Olono i lavori tutti i prodotti. Ricami di noviature.